Sono molto contenta di fare questo video, vi saluto e ringrazio la Fondazione Mariani per avermi dato questa opportunità. Dopo tanti anni lascio la direzione di questo centro, centro che è nato nel 2001 e che io ho avuto la fortuna e l'onore di dirigere dal 2013. Questo centro si occupa di malattie mitocondriali, si occupa a tutto tondo, si occupa di diagnosi, si occupa di cura, si occupa di ricerca, di trovare sempre le cause di queste malattie mitocondriali e di trovare soprattutto delle terapie innovative. Durante la mia direzione quello che io ho cercato di fare è di creare un gruppo il più possibile omogeneo e motivato. E posso dire di esserci riuscita e questo è veramente il mio orgoglio, di lasciare delle persone che sono tutte motivate, che amano il loro lavoro e che continueranno senza assolutamente nemmeno quasi accorgersene, che io non ci sono più a portare avanti questa loro missione perché di questo si tratta. Sono tutte persone che vivono il loro lavoro come missione e sono anche altrettanto contenta di lasciare la direzione di questo centro alla dottoressa Valeria Tiranti, che anche lei da tantissimi anni si occupa di queste patologie e si occupa essenzialmente di ricerca ed è anche adesso la vice direttrice scientifica dell'Istituto Vesta.